These salt soaked caverns are teaming with pelagic nightmares, they must be flushed out Namaste, io sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio di Darkest Dungeon, episodio 41 Siamo con Sir Beltway, Arkurt, che non ha ancora un nome, effettivamente mi sono dimenticato di metterlo Roland e Scrooge, andiamo a cominciare a esplorare qua nella baia La nostra missione è completare il 100% delle stanze con i combattimenti Vediamo un po' che cosa possiamo fare, siamo armati fino ai denti, vediamo un po' di fare un po' di esperienza, speriamo Forziere incrostato, usiamo la chiave? Non ha effetto, ok, andiamo con le mani? C'è un tesoro! Ok, sappiamo che non dobbiamo usare le chiavi contro questo tipo di forziere Apriamo un sacco vuoto e qua c'è una trappola, tu dovresti avere 125 perché ho messo a lei o a lui, Roland, il discorso delle trappole Quindi molto bene, vediamo di entrare qua dentro È una missione corta quindi dovrebbe essere molto facile E il fatto che la mia esplorazione ci aiuterà abbastanza, si spera Andiamo da questa parte, apriamo anche questo, non contiene nulla Sono delle casse normalissime allora Questo sembra qualcosa di particolare Ma non lo è per ora, ok Andiamo qua dentro Andiamo di qua, dove c'è un tesoro e un combattimento sicuramente Mangiate pure Qua c'è la vanga da usare, quindi usate pure E andiamo qua dentro Ok, vediamo un po' il combattimento contro chi siamo Contro gli uomini pesce che sono sovrannaturali Io ho gli oggetti contro i sovrannaturali Lo scopriremo, non credo Comunque ci siamo portati in antiquaria Che vediamo cosa, come agisce Perché ho sistemato anche un po' le caratteristiche che hanno tra l'altro questi personaggi Ma vediamo, vediamo, vediamo Contro gli facciamo dai 5 ai 9 e dai 7 ai 14 Con questo lo spostiamo Facciamo 2 a 4 Questo facciamo Accechiamo qualcuno E se facciamo finisci lo facciamo dai 7 ai 14 Sul loro 2 Dai 7 ai 14 e dai 7 ai 14 Però ho più possibilità di Fare critico con questo Quindi iniziamo così Facendo 10 danni su quello e mezzo Qua abbiamo i pugnali fulminei Perfetto, ottima cosa Roland Abbiamo il debuff Qua abbiamo anche la pugnalata nervosa Che fa dai 2 ai 3 danni Dai 3 ai 5 danni Non è tantissimo Oppure possiamo fare il morbo È un morbo da 1 per 3 Che non è quasi niente Oppure facciamo la cura Oppure facciamo il discorso Direi che andiamo di Proviamo di pugnale Che non farà granché E appunto è il problema dell'antiquaria Che è un personaggio abbastanza schifoso Ma ha dei bonus Per quanto riguarda i soldi recuperati Possiamo fare dai 9 ai 18 Con Beltway Che è un po' l'esperto della situazione Questo ha poca resistenza a stordimento Quindi proviamo a stordirlo Perfetto E adesso proveremo a fargli un po' di danno Tu vai Andiamo di pugnale Quanto fa questo? Fa dai 4 per 3 Ok, facciamolo qua allora Se gli diamo un morbo È praticamente morto In automatico Ci vorrà solo un po' di tempo Si prende 4 danni Gli manca ancora 2 A quello in fondo E siamo a posto Lui si prende un buff Ma è stordito Tu hai la cosa apposta Per fare più danni Che è stordito Quindi comincia a cure Tu fai Una cura qua Abbiamo un 2 di cura Perché almeno gli ho messo L'amuleto del cerusico Qua andiamo con O una cura Oppure continuiamo a far danno Facciamo danno qua Sono 8 danni C'ha 9 di energia Questo si è perso il turno Adesso vediamo di fare danno con gli altri Allora Tu puoi andare di piccolata in faccia O di pugnaletti Andiamo di pugnaletti Ok Ottimo che li abbiamo uccisi entrambi Questo c'ha 2 di energia Adesso manca solo lui Da sistemare Che adesso è stato curato E c'ha 15 di energia Andiamo con La granata No Perché c'ha una resistenza Allo stordimento Abbastanza alta Proviamo a colpirlo O proviamo No Proviamo a colpirlo così Tanto l'altro è morto in automatico Quindi adesso manca solo da beccare lui Ottima schivata E quindi adesso dobbiamo cercare di fare Più danni Qua continua a curare a sto punto E tu devi cercare di fare più danni possibile Perfetto Così come ti ho chiesto Quindi questo è morto in automatico Tu puoi anche tirargli un coltello Così per sfizio finale Perché ti dà un buff Oggetto d'antiquariato Non è gran che è di roba Ma andiamo di qua Questa abbiamo la chiave Ma non ce l'abbiamo Quindi lasciamo perdere E vediamo di continuare l'esplorazione Qua sopra c'è un combattimento Sì Quindi manca solo questo combattimento qua E abbiamo già finito la missione Quindi facciamo una missione proprio super veloce Episodio veloce velocissimo Questa è nuova Pozza salmastra Una pozza d'ancore stagnante In una roccia levigata Il suo colore è un po' insolito Proviamo a usare L'acqua santa No Proviamo a usare le bende No Proviamo a usare l'antidoto L'antidoto purifica questa E ci dà un pochino di più Va bene Almeno abbiamo imparato una cosa nuova E andiamo a fare l'ultimo combattimento Questa è ottima Perché se avessimo l'acqua santa qua Potremmo usarla Ma purtroppo non ce l'abbiamo E vediamo di fare un po' di danno allora Tu inizia con i pugnaletti direi 5-7 Roland è ottimo personaggio come Come danni Forse perché è anche qualcosa per Per gli empi forse Per i sovranaturali Ci ha stordito Ma va bene così Vediamo di fare un po' di danni adesso Con i nostri ragazzi Tu puoi Facciamo un morbo? Vediamo un po' di morbo a questo Due danni Però niente Niente di altro Va bene Tu puoi fare 7-14 Su qualcuno Direi che lo fai su di lui Ah schivato Qua allora andiamo di Proviamo a uccidere questo Ci hanno poca energia tutti Però devo beccarli più che altro Va bene Vediamo adesso se riusciamo a fare qualcosa Arpionare Fortuna non mi sposta Tu ti perdi il turno Estirpazione salata Che però è un mancato Squarcio marino Ok Allora tu vai di pugnalata qua Ok Ne abbiamo ucciso uno Con l'antiquario Strano Qua attacchiamo questo Fuori due Qua attacchiamo Nessuno in realtà Vabbè Attacchiamo Questo Giusto per distruggerlo Adesso mi fai 18 Sul cadavere Mi fai 18 E tu puoi lanciare i coltelli Ucciderne uno E l'altro C'ha 6 di energia Adesso proviamo a fare l'attacco Di vieni qui Se ce la facciamo 5 danni C'ha 1 di energia Vieni qui E abbiamo ucciso Perfetto Ci siamo Uh 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 Pietra di sanguamento 20% di possibilità di sanguamento Che è ottimo Perché ci mancava Un oggetto del genere Di creare di sanguamento Abbiamo le resistenze Ma non il dare di sanguamento E abbiamo recuperato L'oggetto d'antiquariato raro Che vale 1000 E questa credo sia Proprio l'antiquaria Che becca C'ha la possibilità Di beccare oggetti E robe E robe in più Ehm Direi di tornare al borgo così Tanto non abbiamo l'acqua Per sistemare quella Quindi torniamo pure indietro E Ah Ho fatto continuare l'avventura Clicchiamo qua E finiamo l'avventura Alla fine abbiamo recuperato Comunque 3000 Più 3000 Spendendolo circa 1500 Forse un po' di meno Abbiamo recuperato Il fischietto dell'esplorazione Che è ottimo E abbiamo fatto un po' di esperienza Abbiamo un po' di livelli 1 e 2 Robusto Che è molto buono 15% di abilità di cuore D'accampamento Che c'ha tra l'altro Il signore qua E Inclina investigare Le arti oscure Interessante Direi di tornare al villaggio Ci siamo fatti una settimana Molto tranquilla In cui abbiamo speso Veramente poco Però abbiamo guadagnato Abbastanza E Quindi effettivamente Il In queste missioni Facili facili L'antiquario serve Perché così livella E lo possiamo portare In altre missioni più difficili E effettivamente Possiamo portarcelo dietro Ogni tanto Per guadagnare Molti più soldi Del normale Perché abbiamo guadagnato 3000 No 6000 Da questa missione Che è abbastanza Interessante Per una ripugnante Maledizione Un prodigio maligno Sembra che anche In questo luogo dannato Si possa sfuggire Alla morte Solo uno di questi soldati Può tornare tra i vivi Può tornare tra i vivi? Possiamo far ritornare retro Possiamo fare ritornare L'Asheri Oppure possiamo far tornare Indietro Mephir Abbiamo bisogno Di un pistolero Ben tornato Nel gruppo retro Questo non me lo sarei Mai aspettato Che figata Abbiamo fatto tornare Gente all'oltre Quindi Cosa è successo Questa settimana Abbiamo fatto la nostra missione Tranquilli Loro tre Sono Non livellato L'altro Salberto Non ha livellato Perché era già Abbastanza alto Saladar È guarito Dalla febbre Giuda Stress Predator Rack up Stress Yuri Stress Gustavo Stress Sedge Stress Tranquillissimi Proprio Proprio Tranquillissimi E qua appunto Avete il cimitero Con i caduti Che sono ritornati Indietro Abbiamo un retro Diligenza Ci mostra Un abominio Un crociato Un soldato Un giullare Abbiamo bisogno Di un secondo giullare Che Vediamo se me l'avete assegnato Ma sì Diamogli il nome Intanto cambiamo il colore Se non sono troppo uguali Ecco Anche scuro Scuro Così Perché il nome È Alessandro Bianchi Nome e cognome Proprio Mi sa che sarà Alessandro Mi sa che sarà Esatto Non ci sta Avevo detto che Non c'era spazio Ma Quanto pare Non ascoltate E la descrizione è Sono depresso Questa è tutta la descrizione Che sta data Di questo personaggio Chissà Se scriverà qualcosa Ehm Ok Quindi abbiamo due Abbiamo Abominia A sufficienza Non abbiamo Abominia A sufficienza E quindi Direi che Mettiamoli in ordine Di A Classe Ok Sì perché Ah ok Voi siete A parte Comunque Se li metto in ordine In classe Effettivamente ci mancano Abominio No no Abbiamo Aiato e Noro Non ne ho neanche visto Perché se no Era il momento Di Di Gesù Che voleva essere Ma Gesù Voleva essere un lebroso Quindi mi sono sbagliato io Abbiamo anche un soldato Quindi abbiamo tutte le classi Che ci servono Andiamo a vedere Piuttosto Che cosa abbiamo Comunque abbiamo un gran ritorno In retro Che tra l'altro deve Direi che festeggi Andando al bordello Spera di non lasciarci le penne Al bordello Come stress Come siamo messi Siamo messi Abbastanza bene tutti Forse Scrooge È l'unico Che deve Un pochino curarsi Lo mandiamo Ma andiamo Scrooge A spendere soldi Al gioco d'azzardo Direi che ci sta E Arkurt Lo mettiamo qua Poi gli cambieremo il nome E vediamo di Imbarcarci Abbiamo sbloccato Qualcos'altro No abbiamo 50% 17% 33% Dovrei fare Questa missione qua Tipo adesso Se volessi fare Una missione Corta corta Anche questa È corta Da veterano Mantello Dell'agilità Non comune Più 2 La velocità Meno 20% Percentuale Di resistenza Interessante Sono antiquare Molto raro Questo lo potrei Anche vendere Tra l'altro Questario della vita Più 20 pf massimi Molto buono Questo Vabbè Decideremo Cosa fare Presto Sto vedendo Se mi interessa Qualcos'altro Ma sono un sacco Di roba Per i Più 15% Pf massimi Anche quello Non è male E questo Ha il medicinale Più di Si mi sa che faremo Questo giusto Perché è un Tipo di missione Nuovo Più di un carovaniere Ha incontrato La sua fine Attraverso la landa Un tesoro di medicinale È stato abbandonato Di recente Aiuterebbe enormemente Nella ricostruzione Di questo Malsano borgo Direi che lo facciamo Per Avere un Oggetto interessante Quindi facciamo così Li mettiamo in ordine Di attività Così abbiamo Quelli non disponibili Qua sotto Ed essendo una missione Di livello 1 Per apprendisti Media però Direi di andare Magari a prendere O prendiamo Uno dei giullari Per questa missione Mettiamo in ordine Di livello Anche Così abbiamo I non disponibili Qua sotto Ah no I non disponibili Vabbè Direi che portiamo Agliato e Noro Sto giro Poi vedremo Di scegliere per bene Magari Alle bianchi Potrei farci un giretto Ci portiamo Giuda Per curare Che dobbiamo Dargli l'abilità Di cura E in prima fila Magari ci mettiamo O Yuri O Gustavo Forse Yuri Potrebbe andare così Come Come cosa Come Composizione Potrebbe anche essere Vedremo di organizzarle Ci vediamo quindi Al prossimo episodio Di Che stanno Che stanno Che stanno Che ci sono Viste Prego Grazie Grazie a tutti Viste 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 Grazie a tutti.